Lo stadio è bellissimo, a parte un attimo per il clima, l'abituarsi che sicuramente in Italia fa più caldo, c'è la sensazione di essere pronti per un grande evento, quello che sarà domani. Siamo contenti di allenarci qui, sicuramente respireremo questa fantastica atmosfera e poi avremo un giorno di tempo per arrivare bene alla partita e sarà sicuramente una grande partita per tutti. Sono contento di essere di nuovo a disposizione e di essermi allenato bene con la squadra da quando siamo tornati da Londra. Oggi abbiamo ancora un allenamento e per me è importante provare tutte le sensazioni. Poi credo che questo sia un grande gruppo e il mister stasera avrà sicuramente tanti dubbi nella testa perché questo gruppo gli ha dimostrato di avere tutte veramente le persone che possono ambire a giocare domani. Chiunque scenderà in campo sarà pronto per Lukaku e tutti gli altri giocatori del Belgio e sono certo che senza snaturare quello che è il nostro gioco e quello che ci ha portato fino a qui faremo una grande partita. Noi siamo fieri di essere italiani come loro saranno fieri di essere belgi e ognuno cercherà di portare la propria nazione più in alto possibile.